Ben trovati da TG della mobilità, Massimina dal 4 settembre al via la sperimentazione di Clickbus, un nuovo servizio di bus a chiamata. Sarà gratuito, accessibile a tutti dietro per notazione 7 giorni su 7 dalle 5.30 a mezzanotte, anche nei festivi. Massimina è il primo quartiere individuato da Roma Capitale per la sperimentazione del servizio gestito da ATAC che si aggiunge alle linee bus esistenti nella zona. Gli utenti potranno utilizzarlo per gli spostamenti nel quartiere, sia come collegamento con la stazione FS Aurelia. Da prenotazione, dal 4 settembre Grazie a tutti.